... il comando vado, stacchiola, la mia data di domino. Zonario attivo, li via ai cascati, come trafida, via a me. Quello è il comando, vado, stacchioola, la mia data di domino. La frittura, le leviamo la testa, le veloce. Basta con la frittura? Sì, sì. Accendi il faro. Lo faccio ospire di farlo. Grazie. Poi qualche gamberetto lo stiamo facendo da frittura o preferisci direttamente il gamberonio? Così. Io poi questo lo faccio al vapore normale? Eh? Faccio al vapore normalmente, come l'ultimo. Sì, sì. Allora, intanto volevo, queste sono di pollo? Di pollo. Eh, me ne dai sei? Sì. Ecco, è uno. È uno. Poi, c'ho ancora altre cose? Mi prendo? Però, se devi riprendere, riprendi. Tutte le cose le ho comprato. Sì, perché queste sono, sono, come vedo, le divettature. Sì, è giusto amante. E niente, un paio di bistecchine di, cioè, non, ecco. Senti, le ho tolte e quattro per me, fai due per te e due per tu marito, le vanno bene? No, io ne mangio una però. Eh, lo so, ma io sempre una me ne mangio. Eh sì, quattro sì. Non lo faio? Eh, io ne voglio sì, solo due, perché tanto poi non le mangi. È peccato poi dopo. Sì, sì, non te sai, sono bellissime. Avevo tolte per me. Chi le ha mezzo le fighe, tu chi le ha il pelotto. Sì. Non è vero, questa no. Ciao, bella. Che te serve, cara? Era questa. Senti, se non a lei stai toccando i peperoni, i peperoni sei euro più. Sì. Ci sono. Stai provando ancora di svegliere. Ma che dormi? Deci in questo sveglia dormi. Poi se c'è sopra un'altra volta. Questo caldo vuoi dormi? Dove dormi? E c'è pure i pomodori rossi. Sì, tanto per esso uguale, perché i pomodori, i peperoni uguali, no? Allora, ha pesato tutto insieme. Per la bimba. Per la bimba.